Cosa sta succedendo a Twitter? Domanda da un miliardo di dollari che ci facciamo tutti dal giorno in cui Elon Musk ha ufficialmente preso il controllo dell'azienda e ne torniamo a parlare oggi perché sono finalmente passati alcuni mesi, possiamo fare delle considerazioni sulla fine dell'anno 2022 dopo che appunto Musk ha preso le redini dell'azienda e soprattutto possiamo interrogarci su cosa può fare Twitter stessa per migliorare le proprie performance nei prossimi anni, visto che al momento la situazione sembra abbastanza difficile. Giusto per darvi un po' di contesto stiamo parlando di un'azienda che è stata profittevole solo due anni fino ad ora, nel 2018 e nel 2019, un'azienda che dovrà pagare un miliardo di dollari all'anno di interessi visti i tipi di accordi e prestiti che ha fatto Elon Musk proprio per completare l'acquisizione dell'azienda e rimuoverla dallo stock market e al momento si parla di qualche centinaio di milioni di utenti attivi che sicuramente può sembrare un numero enorme ma sono numeri molto distanti dai miliardi di utenti che invece popolano Instagram, TikTok, Facebook e soprattutto stiamo parlando di un social che sta avendo molti problemi a scalare e a crescere al di fuori degli Stati Uniti che sicuramente è uno dei mercati se non il mercato più importante al mondo per la maggior parte delle aziende però chiaramente è un mercato limitato, specie quando in realtà la distribuzione globale è un valore aggiunto incredibile soprattutto per un social media che si concentra sulla diffusione di notizie a velocità elevata, notizie che appunto non possono avere solo respiro nazionale avere un 15-20% quasi della propria user base che si concentra nel territorio statunitense, magari in Canada, può essere un po' limitante specie se nonostante questa altissima percentuale di utenti altospendenti come direbbe qualcuno la media di revenue per utente rimane quella di 15,80$, di nuovo molto più bassa rispetto a quella dei social che sono in pancia a meta per esempio che riesce a monetizzare molto meglio le persone che utilizzano i propri social la prima domanda sorge spontanea, cioè quello che ha fatto Musk, il casino con gli licenziamenti, con tutte le dichiarazioni che hanno fatto discutere con le nuove policy hanno aiutato Twitter oppure no? ci sono sicuramente due rami che possiamo prendere da qui il primo, quello più complicato, che magari non affronteremo nel dettaglio oggi è a livello di percezione, cosa pensano oggi gli utenti di Twitter ci si fida di più, ci si fida di meno tutte queste ramificazioni poi avranno degli effetti solo nel medio e lungo termine su quello che è il futuro di Twitter e quindi un po' difficile entrare nel dettaglio per quanto riguarda invece gli aspetti a breve termine quello che ci dice l'azienda è che il numero di utenti e l'attività, l'engagement degli utenti presenti all'interno del sito in realtà è aumentata dal giorno in cui Musk ha preso le redini verso la fine di ottobre del 2022 ma andando a guardare le revenue, andando a guardare gli utenti attivi in realtà il trend rimane negativo come lo erano negli anni passati entrando più nel dettaglio possiamo analizzare in particolare i risultati nell'ultimo quarter del 2022 quindi appunto il periodo che va da ottobre a dicembre sicuramente parliamo di due mesi effettivi di lavoro di Musk che sono pochissimi se si pensa a tutti i miglioramenti che andavano fatti a Twitter tutta la questione dei licenziamenti, tutte le questioni burocratiche quindi stiamo prendendo un sample size molto piccolo però è quello che abbiamo, è la cosa più concreta su cui possiamo ragionare e può essere un ottimo punto di partenza perché? Perché innanzitutto l'ultimo quarter del 2022 ha avuto una crescita rispetto al quarter precedente paragonabile più o meno a quella che abbiamo visto anche negli anni passati quindi magari nel 2021 dal Q3 al Q4 si è cresciuti del 25% che è una cifra normale per aziende che si basano principalmente sulla pubblicità anche nel 2022 il 90% delle revenue di Twitter sembra essere arrivato dalle pubblicità e sappiamo tutti che l'ultimo periodo dell'anno è quello in cui si spende di più perché ci sono i regali di Natale, le persone ricevono il secondo stipendio a dicembre quindi è un periodo in cui in generale gli advertiser sono disposti a spendere di più c'è anche il Black Friday e soprattutto negli Stati Uniti adesso però anche a livello globale quindi è normale che aumentino però questo incremento di spesa è stato molto simile nel 2022 partendo da un livello molto più basso infatti se andiamo a vedere il totale quello che Twitter ha guadagnato negli ultimi tre mesi del 2022 è stato inferiore non solo a quanto Twitter ha guadagnato negli ultimi tre mesi del 2021 che è stato un anno record per Twitter sotto tantissimi punti di vista ma è stato addirittura meno di quanto Twitter ha guadagnato negli ultimi tre mesi del 2020 quindi sicuramente nel 2020 un altro anno di pandemia quello che volete ma stiamo parlando di un'azienda che non è solamente stagnante a livello di crescita ma è effettivamente impicchiata e lo è stata per tutto quanto la seconda parte del 2022 quindi anche il terzo trimestre del 2022 è stato molto negativo da un punto di vista di performance si poteva aspettare un imbalzo un po' più alto chiaramente non possiamo dare tutte quante le colpe a Musk come non potremmo avergli dato tutti quanti i meriti in caso in cui invece la situazione fosse stata diversa perché? perché ci sono anche delle condizioni macro che sono cambiate a velocità incredibile infatti se avete seguito un po' i mercati sapete che a partire da aprile, maggio quando si è cominciato ad alzare i tassi di interessi quando lo stock market è cominciato a crollare tantissimi advertiser hanno cominciato anche a ridurre le proprie spese quindi è normale che un business come Twitter che è fortemente esposto alle volontà degli inserzionisti subisca delle perdite in un momento in cui tutti quanti gli inserzionisti cominciano a spendere di meno quello che è chiaro è anche che il piano di Musk per svincolarsi un po' da questa realtà lui è sempre stato molto aperto sull'idea di voler rendere Twitter più autosostenibile o comunque meno sostenuto dagli inserzionisti ancora non sta funzionando ripeto è normale, è passato poco tempo però il lancio di Twitter blu è stato un po' debole sotto vari punti di vista secondo me c'erano modi molto più interessanti di sviluppare un piano a pagamento poi non sono nessuno per contraddire o per dibattere con Elon Musk su quali scelte sarebbero migliori per l'azienda però insomma mi sembra un po' un commento che si è visto molto spesso da varie persone il fatto che questo lancio non solo sia stato poco chiaro, confusionario che abbia creato tanti problemi che avrete visto nei vari meme e in varie discussioni ma che sembra aver creato un prodotto che in realtà da poco valore aggiunto agli utenti sbagliati e quindi stiamo a vedere come si evolverà ma al momento il problema principale rimane un'altra piccola postilla che va fatta è quella sui licenziamenti ci sono state un sacco di polemiche sui tagli fatti da Elon Musk, sui criteri che ha seguito sulla percentuale di persone che sono state tagliate, sono uscite tantissime storie e anche al giorno d'oggi si parla di tantissimi problemi a livello di cultura aziendale a Twitter sembra che veramente il metodo per gestire questa situazione da parte di Elon Musk sia stato estremamente rapsodico e anche contoproducente non posso dire molto su questo quello che posso dire dal mio punto di vista è che sicuramente Twitter sembra essere un business che aveva bisogno di essere semplificato anche a livello di costi stiamo parlando veramente di tantissimi ingegneri tantissime persone che venivano pagate molto perché si parla di ingegneri in Silicon Valley e un prodotto che assolutamente non era all'altezza dei costi di ricerca e sviluppo quindi c'era tanto da cambiare magari c'era una cultura di entitlement come direbbero gli americani negli uffici di Twitter quindi penso che da quel punto di vista sia stata la direzione giusta non so se la mossa è stata fatta in maniera corretta però credo che si stia prendendo una buona direzione soprattutto nello stato in cui si trova Twitter è un business che ha bisogno di trovare un percorso verso la profittabilità come se dovesse ripartire nel stato startup quasi visto che per così tanti anni è rimasto piatto non solo a livello di revenue ma proprio a livello di funzionalità nuove ci sono state sicuramente dei lanci molto interessanti tipo Twitter Spaces che è stato l'unico prodotto che in un certo senso è ancora vivo, pimpante quando c'è stata la rincorsa a Clubhouse quindi hanno vinto questa rincorsa tant'è vero che Clubhouse al giorno d'oggi possiamo definirlo praticamente irrilevante non ha ancora chiuso se non sbaglio ma comunque sembra essere sparito ma magari un giorno tornerà e si metteranno qualcosa però ecco ci sono state dei lanci interessanti soprattutto sulla base di trend che sono stati lanciati da altri sul mercato però Twitter stessa ha tantissimi problemi ho già fatto vedere in un video del tablerone podcast che faccio con Mr. Rip ogni altro giovedì quindi se volete potete andarla a sentire anche su Spotify Apple Podcast e tutti i vari distributori ho fatto vedere un esempio cercando l'hashtag Messi che magari è trending perché Lionel Messi ha fatto gol ai mondiali noi utenti italiani troviamo dei tweet in cui un utente qualsiasi dice l'altro giorno i miei amici si sono messi in fila al McDonald quindi non riesce neanche a distinguere l'entità come direbbe Google dal verbo mettere che viene utilizzato in un'altra lingua quindi veramente stiamo parlando di funzionalità che dovrebbero essere implementate alla velocità della luce quando si tratta di team di centinaia di ingegneri un altro esempio può essere quello per cui io vado a vedere i tweet trending e mi ritrovo con dei tweet scritte da persone che hanno tre follower e che hanno zero interazione cioè la selezione dei contenuti che mi vengono mostrati quando cerco di fare discovery su Twitter è veramente veramente bassa in un mondo in cui TikTok ha creato tutta quanta la sua crescita sul consigliare le cose giuste al momento giusto alle persone giuste l'algoritmo di Twitter è inutilizzabile e se non seguiamo già un feed curato di persone ci passa la voglia di utilizzarlo come social perché veramente non troviamo nulla di interessante in maniera organica dobbiamo continuamente cercare di capire quali sono persone interessanti da seguire perché altrimenti diventa complicato se si riesce a fare i primi step per superare questa frizione allora magari entriamo in un circolo virtuoso per cui le persone che seguiamo consigliano e interagiscono con altre persone interessanti e troviamo contenuti ma la maggior parte delle persone che non vuole passare questo primo step che magari può sembrare abbastanza arduo, special inizio si ritrova con un social che sembra praticamente inutile ora ragioniamo un attimo su cosa possiamo andare a fare cosa può Twitter fare per migliorare la propria situazione l'idea per questa parte di video è nata leggendo un articolo di Kevin Indig che vi lascio in descrizione e vi consiglio assolutamente di leggerlo una persona brillante disclaimer è anche investitore nell'azienda dove lavoro quindi è una persona che ho conosciuto, che stimo molto che è stato direttore della SEO a Shopify che ha lavorato anche per Atlassian G2 e un sacco di aziende veramente veramente importanti nel mondo SaaS, nel mondo software in generale e quindi ho preso alcuni dei suoi punti vi faccio sapere i miei spunti di riflessione leggendo quello che ha scritto lui e magari invece dove mi trovo un po' meno d'accordo però in generale era un articolo sensato, ben scritto e ho pensato che sarebbe stato interessante riportarvi questi punti di discussione per capire insieme cosa potrebbe fare Elon e il suo team per effettivamente migliorare la situazione dell'azienda partiamo dallo step 1 della crescita cioè come acquisire utenti la prima cosa che salta all'occhio è che Twitter non ha nessun tipo di sistema di referral quindi pensate a quello che accade quando scaricate Airbnb, Uber, Deliveroo tutte app che vi consigliano o vi pingono ad invitare amici per ricevere in cambio degli altri bonus in queste piattaforme molto spesso si tratta di incentivi monetari social network è vero che di norma non offrono questo tipo di incentivi ma io vedo due differenze tra questi social network e Twitter il primo è che se non sbaglio Twitter non chiede l'accesso alla nostra rete di contatti come per esempio accade con Facebook quando ci registriamo e ci chiede di vedere le persone in rubrica per facilitare questa pratica dell'invito e dello scambio tra amici ma magari semplicemente per sapere quali dei nostri amici già sono registrati e il secondo è che almeno sembrerebbe l'incentivo di invitare amici su Twitter sia più basso che non su Instagram o su Facebook mentre su questi due social media ci concentriamo a magari capire cosa sta succedendo nella vita delle persone che conosciamo vogliamo scambiare i nostri momenti e momenti della nostra vita per far ingelosire le altre persone che conosciamo come di buona e sana abitudine umana su Twitter c'è quasi la spinta contraria cioè ho quasi paura di vedere cosa scrivono i miei amici i miei conoscenti che sono avidi utilizzatori di Twitter un po' come la paura che c'è nell'aggiungere parenti su Facebook che però ormai è diventata una prassi quindi questi elementi sembrano creare un po' di frizione per l'utente normale che magari potrebbe invitare degli amici a utilizzare la piattaforma in modo da avere più contenuti interessanti ma non lo fa perché la spinta non è tanto forte quanto invece su altri social media avere un sistema di referral può risolvere questo problema in generale non sono un grande fan dei sistemi referral che si basano solo su incentivi monetari penso che questi loop funzionino molto meglio quando si hanno degli incentivi all'interno del prodotto ma anche questo si può risolvere per esempio abbiamo parlato prima di Twitter Blue e di come stia prendendo piede in maniera lenta si potrebbe fare in modo che chi invita un certo numero di persone 5 persone, 10 persone riceve un mese gratuito di Twitter Blue questo non solo per incentivare l'invito ma anche per abituare qualcuno al servizio stesso facciamo l'esempio di YouTube Premium molti di voi non avranno neanche provato YouTube Premium ma intuitivamente chi è un grande utilizzatore di YouTube e fa il mese di prova gratuito o i tre mesi di prova gratuiti che esistevano prima e comincia a usarlo avrà un pessimo periodo nel momento in cui questo abbonamento dovesse scadere quindi un utente che ha provato i vantaggi di YouTube Premium che ha provato a sentirsi video di YouTube con lo schermo del telefono spento e il download dei video YouTube per quando vai in aereo sentirsi video solamente in audio senza dover tenere l'applicazione aperta tutti questi vantaggi tu li hai provati sulla tua pelle nel momento in cui li perdi ti senti a disagio vuoi assolutamente fare in modo di tornare alla situazione di prima che ti piaceva di più mentre invece se non sai cosa li perdi sei meno convinto da questa proposizione perché appunto magari non è così interessante come ti sembra ad occhio bene far provare in maniera gratuita Twitter Blue però in seguito a questo incentivo può essere un ottimo modo per poi avere dei clienti di Twitter Blue in maniera ricorrente un'altra cosa potrebbe essere avere degli elementi digitali che vengono mostrati sul profilo Twitter è un po' la piattaforma più legata agli NFT tra tutti i vari social network si può lavorare in questo senso anche se il mondo NFT sta un po' morendo da tanti punti di vista magari prima o poi risorgerà o comunque tornerà a crescere e quindi questo può essere un altro incentivo interessante per il tipo di audience che c'è su Twitter un altro potrebbe essere quello di dare crediti per incentivare la pubblicità quindi io sono un utente X che è su Twitter e invito 10 persone questo mi dà la possibilità di spendere 10 dollari per sponsorizzare i miei post questa è un'opzione che non mi sconfinferà più di tanto non ricordo se è stata menzionata da Kevin perché io questo riassunto del video di Kevin in realtà l'ho scritto un mesi fa però non so cosa è la mia considerazione cosa è una sua adesso quindi cercherò di ricordarmelo bene però in generale sì concordo che questo tipo di pubblicità è solo discretamente rilevante primo di tutto perché ho provato in prima persona a pubblicizzare prodotti su Twitter e sicuramente l'algoritmo non è buono come quello di altri social network con cui spesso viene comparato quindi servono obiettivi diversi magari sono più campagne di awareness e un tizio random o una piccola azienda di solito non fa campagne di awareness e un'azienda che invece vuole fare campagne pubblicitarie per il proprio prodotto e vuole usare Twitter lo fa senza aver bisogno dell'incentivo dei 10 dollari potrebbe essere interessante magari per piccoli utenti che hanno un piccolo medio business e per fare test magari la pubblicità per loro funziona ma di nuovo penso la percentuale di successo sia abbastanza bassa un altro potenziale incentivo che ho in un certo senso anticipato prima è quello di soldi e basta quindi come succede su Airbnb per esempio tu inviti un certo numero di utenti o un utente che poi diventa che poi prenota su Airbnb e ricevi una quantità cash di soldi che poi puoi riutilizzare o se non sbaglio puoi anche ritirare insomma c'è su tantissimi prodotti se non proprio Airbnb nello specifico quindi questo è un primo growth loop che si potrebbe utilizzare per aumentare il numero di utenti a Twitter chiaramente i growth loop basati sui referral tendono a perdere di efficacia nel tempo anche solo per una questione matematica di quantità di potenziali clienti che sono rimasti una volta che hai cominciato a invitare tutti quanti però soprattutto nel momento in cui Twitter si trova potrebbe essere un buon primo step un altro growth loop molto più interessante a livello proprio di scala è quello legato alle partnership con i motori di ricerca infatti c'è già una partnership tra Twitter e Google che permette di far vedere i tweet più recenti di personaggi famosi quando qualcuno cerca appunto informazioni su questi personaggi magari io mi metto a cercare Tommaso Di Stefano su Google Tommaso Di Stefano è molto attivo su Twitter e quindi non solo Google mi mostra il knowledge graph al lato su Tommaso Di Stefano mi mostra la pagina Wikipedia mi mostra il suo sito ma posso vedere anche i tweet che questa persona ha fatto negli ultimi giorni tweet abbastanza recenti sicuramente questo può essere un modo per generare utenti per generare interesse su Twitter ma mi sembra chiaro che ci sia un'opportunità ancora più grande per mettere i tweet legati a situazioni non a persone cioè cosa voglio dire che nel momento in cui c'è un terremoto come è successo di recente purtroppo penso l'abbiamo sentito tutti in Turchia, in Siria molte persone cercano informazioni sul momento appena si viene a sapere qualcosa e Twitter è risaputo essere uno dei posti migliori per ricevere queste informazioni ci sono persone sul luogo che riescono a farci sapere immediatamente cosa è successo, cosa sta succedendo di solito c'è una buona affidabilità chiaramente stiamo sempre parlando di un social network dove chiunque può scrivere qualsiasi cosa però rispetto magari ad altre realtà c'è un'etichetta un po' diversa su Twitter da questo punto di vista e ci sono anche tanti giornalisti che possono aiutarci a fare da filtro e a commentare quello che sta succedendo pensiamo anche semplicemente a quello che succedeva durante la guerra in Ucraina Twitter era una delle fonti principali di informazione e tuttora lo è poi ci sono i vari gruppi Telegram però sono molto meno accessibili al pubblico qualunquista mettiamola così quindi se Twitter riuscisse a trovare un modo di filtrare e di estrarre i tweet più rilevanti su un evento attuale questo creerebbe tantissimo contenuto rilevante per Google stessa e questa tra l'altro sarebbe una novità molto interessante anche seguendo due trend nuovi il primo è quello di googlare qualcosa e poi scrivere Reddit non so se lo sapete ma molte persone magari adesso cominciano a scrivere ho problemi con il monitor LG 27 pollici FGHI Reddit perché? perché ci sono resi conto ma io stesso ho cominciato a farlo ogni tanto che i risultati su Google per ricerche specifiche su determinati temi magari un po' più di nicchia o su prodotti specifici non sono molto rilevanti quello che invece è rilevante quello che vogliamo sapere o quello che ci fa comodo è l'esperienza di utenti che hanno quello stesso prodotto o che magari sono più avvezzi sono più dentro alcuni temi di nicchia specifici e Reddit è un ottimo posto per trovare questo tipo di informazioni quindi ci ritroviamo a cercare informazioni sul mondo del NAS nel Reddit r slash NAS e riusciamo ad avere informazioni più affidabili o comunque informazioni più adatte a noi da altri utenti piuttosto che non da siti random su Google che cercano di venderci il loro prodotto per esempio Twitter in un certo senso potrebbe sostituirsi a Reddit perché è una realtà abbastanza simile su Twitter ci sono esperti di tantissimi temi diversi che continuano a condividere la loro esperienza cose che incontrano durante il loro percorso e in questo senso mi sembrerebbe veramente una partnership molto molto interessante il secondo trend che potrebbe essere combattuto da questa implementazione è quello del AI all'interno del motore di ricerca che sia semplice AI per darci una risposta secca che sia un chatbot stile chat GPT come quello che vorrebbe integrare Bing sappiamo che la stessa Google vuole integrare un prodotto di questo tipo all'interno della propria SERP ma ci sono delle situazioni che sono talmente in tempo reale a sviluppo veramente rapidissimo che neanche i chatbot sarebbero in grado di darci una risposta nonostante la nuova versione di GPT-3 che viene integrata dentro Bing sia più potente abbia informazioni molto più aggiornate e riesca magari a dirci con accuratezza chi ha vinto il mondiale il giorno dopo che si sa il vincitore del mondiale quando si parla di ancora un evento come il terremoto in Turchia difficilmente il chatbot sarà in grado di darci informazioni 30 minuti dopo che si è venuta a sapere la notizia o comunque se ci darà informazioni saranno superficiali mentre invece su Twitter ci sono una pluralità di punti di vista da tante persone ci sono commenti di persone che rispondono tra di loro quindi secondo me anche questo tipo di ricerche potrebbe essere coperto veramente in maniera ottimale da una forma di integrazione tra Twitter e Google qual è il problema? come dicevamo prima Twitter già ad oggi ha problemi a selezionare tweet legati a temi di tendenza ma in maniera veramente banalissima distinguendo il Messi giocatore da il Messi in forma verbale mettiamola così adesso immaginiamoci il modo di trovare Twitter rilevanti su determinati argomenti e poi dare questa informazione a Google secondo me questa è la challenge più grande per mettere in atto questo tipo di integrazione passiamo dall'acquisizione di utenti all'engagement degli utenti stessi un primo tema secondo me già l'abbiamo affrontato cioè dare nuova vita agli hashtag non solo sistemare i problemi che ho menzionato già più volte oggi ma per esempio anche trovare un modo di grupparli in maniera differente per esempio l'esempio dei mondiali Qatar 2022 è un hashtag generico ok ma se io vado a vedere i tweet su Qatar 2022 magari mi perdo le persone che hanno scritto del record di Messi senza utilizzare questo hashtag madre mettiamola così avere una sorta di macro gruppo parentesi quadre per esempio al posto degli hashtag tra l'altro colgo l'occasione di salutare Chris Messina l'uomo che ha inventato l'utilizzo dell'hashtag come lo intendiamo oggi su Twitter che ho avuto il piacere di conoscere a un evento di mail app a Milano però appunto magari si potrebbe sostituire l'hashtag a qualcos'altro si potrebbe implementare qualcos'altro che ci dica ok all'interno di questo gruppo non c'è solo l'hashtag madre ma ci sono anche vari hashtag che sono collegati e non per forza qualcuno deve mettere l'hashtag Qatar 2022 per finire qui dentro ma potrebbe mettere l'hashtag Messi e finire sempre a questo interno perché sappiamo che è un contenuto collegato non dovrebbe essere qualcosa troppo difficile da implementare quindi secondo me questo potrebbe essere un primo step interessante il secondo aspetto dell'engagement è legato ai bot sappiamo che Twitter era un problema di bot Elon Musk ci ha fatto 3000 storie era uno dei motivi che cercava di sfruttare diciamo per tirarsi fuori dall'acquisizione a un certo punto comunque per abbassare il prezzo però ecco in generale credo che questo sia assolutamente un problema da affrontare e c'è anche da prendere ispirazione magari da social come LinkedIn che ha dei contenuti in realtà non dissimili a Twitter secondo me soprattutto in certi ambiti ok poi ci sono nicchie su Twitter che non esistono su LinkedIn e viceversa ci sono tantissimi post copiati da buongiornissimo caffè ma ci sono meno bot anche lì ci sono per carità ci sono meno bot anche per la natura del social e soprattutto mi sembra che ci sia un incentivo maggiore a postare su LinkedIn piuttosto che non su Twitter questo perché? perché intanto la riccia organica su LinkedIn è ottima almeno al giorno d'oggi poi sappiamo che il ciclo dei social è ripetitivo quindi probabilmente questa cosa andrà a diminuire con il passare del tempo però al momento ci sono molte meno persone che pubblicano piuttosto che non persone che leggono su LinkedIn e quindi io scrivo un post e va a finire non solo ai miei amici non solo agli amici dei miei amici ma anche agli amici degli amici degli amici se è un post che effettivamente riceve engagement quindi questa cosa manca su Twitter e poi anche se ci fosse o comunque magari già c'è ma in maniera diciamo in forma piccola Twitter è un social molto più difficile da monetizzare al momento perché su LinkedIn magari io genero 2000 connessioni sono un professionista che si occupa di offrire un certo tipo di servizio e continuando a diciamo rafforzare il mio personal brand su LinkedIn poi da lì riuscirò a ricavare potenziali clienti riuscirò a ricavare magari un profilo lavorativo più interessante quindi verrò assunto da un'azienda migliore o potrò negoziare un salario maggiore questa parte su Twitter manca e quindi secondo me una cosa interessante da fare è quella di fare il revenue sharing proprio per Twitter quindi non avendo la possibilità di avere una monetizzazione in diretta forte come quella di LinkedIn magari si potrebbe fare una condivisione delle revenue degli ad proprio con chi crea contenuti questo se non sbaglio è qualcosa che Elon Musk stesso ha menzionato ha detto di voler fare vediamo come verrà sviluppata questa cosa ma potrebbe essere molto interessante tra l'altro un commento che mi viene da fare in merito è che difficilmente ci sono persone che sono diventate famose da Twitter se pensiamo a YouTube se pensiamo a Instagram se pensiamo a Facebook ma pensando anche a Twitch che è un social che ha tantissimi problemi da questo punto di vista dal punto di vista della scoperta però è facile nominare almeno una persona che sia diventata famosa da questi social se li seguite da Twitter mi viene molto più difficile magari ci sono persone che hanno acquisito notorietà all'interno di una certa nicchia magari ci sono persone che hanno acquisito contatti e sicuramente hanno beneficiato da Twitter specie negli Stati Uniti però è un caso molto più limite sicuramente avere questa forma di monetizzazione in più potrebbe cominciare a spingere creator di altre piattaforme a portare le persone su Twitter e potrebbe spingere persone che magari fino ad oggi hanno solo visibilità su Twitter a creare ancora più contenuti e concentrarsi su quella piattaforma piuttosto che non cercare la fortuna altrove perché sanno che avranno la possibilità di monetizzare eventualmente l'ultimo aspetto legato all'engagement è quello del feedback degli utenti banalmente è molto più facile dire a Facebook dire a YouTube dire a Instagram questo contenuto che sto vedendo non mi interessa rimuovilo dal mio feed rimuovi questo utente dal mio feed mentre su Twitter queste funzionalità sono assolutamente mancanti e questa è diciamo una prima cosa veramente veramente facile da implementare voglio dire non facilissima ok però è un qualcosa che si può implementare che potrebbe migliorare di molto la qualità dei contenuti che io da utente vedo all'interno del mio feed passiamo all'ultimo punto cioè la monetizzazione poi di questi utenti ho parlato prima di Twitter Blue secondo me Twitter Blue è un qualcosa che è stato studiato male lanciato in maniera approssimativa ok questo penso sia sotto gli occhi di tutti visto gli scandali che sono successi ma qual è il problema? intanto siamo andati a dare a tutti quanti una delle cose che su Twitter era considerata più di valore cioè il marchio di approvazione ok il marchio di certificazione questo è un utente verificato è un utente vero poi c'è stato un momento in cui c'erano doppi simboli poi adesso se non sbaglio non maschi di recente ha detto che il verificato originale quindi il verificato dato alle aziende a famosi giornalisti a famosi cantanti verrà rimosso esisterà solamente il check di Twitter Blue non so se questa cosa è già accaduta quindi stiamo parlando veramente di secondo me follia ok perché ha perso di qualsiasi valore questo tipo di certificazione al giorno d'oggi o comunque lo perderanno nel momento in cui non ci sarà più la certificazione per persone che sono veramente famose ma invece ci sono varie richieste che tantissimi utenti già hanno fatto in maniera esplicita per avere per esempio una versione di Twitter che consenta di avere una visibilità maggiore sulla performance dei propri post o della propria audience oppure magari strumenti extra per monetizzare ci sono aziende che pagano centinaia migliaia di euro al mese per avere statistiche più dettagliate su il proprio profilo Twitter non vedo perché questa per esempio non potrebbe essere una feature in più da mettere per monetizzare i creator forti sulla piattaforma quindi aziende sarebbe una cosa diversa ok una cosa che non esiste effettivamente su quasi nessun altro social media adesso almeno non mi viene in mente però sappiamo che ci sono persone che vogliono questa feature su Linkedin per esempio ci sono in realtà ora che ci penso Linkedin ha delle funzionalità simili Linkedin a livello di monetizzazione è chilometri e chilometri avanti rispetto a Linkedin basti vedere insomma tutta la parte di Sales Navigator di HR su Linkedin del Linkedin Premium in generale quindi veramente un'altra lega si potrebbe prendere tantissima ispirazione ma poi in generale si potrebbe pensare per esempio a come un Twitch Prime ok per cui io utente Twitter Blue posso dare un token su base mensile a un creator di Twitter che mi piace particolarmente qui si ritorna al discorso della monetizzazione questo potrebbe anche avere integrazioni carine con Twitter Spaces quindi si vanno a creare le live audio un po' stile competitor a Twitch su temi differenti si potrebbe dare la possibilità di avere dei feed su Twitter diversi con un piano premium quindi è come se avessi multiple profili all'interno del mio stesso profilo sappiamo anche che Elon Musk ha deciso di togliere accesso a tantissime applicazioni di terze parti che prima utilizzavano Twitter e che si basavano su Twitter per magari dare client alternativi per dare funzionalità extra beh c'è un vuoto di mercato enorme da colmare tantissime persone usavano Twitter solamente perché avevano la possibilità di usare un client che non era quello ufficiale ma client di terze parti che per loro erano molto più utilizzabili quindi adesso come si farà risolvere certi problemi queste sono tantissime domande però ecco ci sono varie idee per vari tipi di persone su come monetizzare vediamo come si evolverà questa situazione però per esempio il discorso del avere molti tipi di feed diversi con persone diverse che vengono smistate è un qualcosa che abbiamo visto nel mondo newsletter funziona molto bene Morning Brew è un esempio di azienda che ha tantissime newsletter verticali e poi le persone decidono a cosa iscriversi quindi Twitter potrebbe avere una cosa del genere magari anche con the creator consigliati già messi in pacchetti per diversi tipi di feed quindi c'è il feed politica e possono avere tutta una sezione di utenti che consigliano questa parte magari gli creerebbe problemi diciamo da un punto di vista legale mettiamola così a quel punto potrebbero o non farlo oppure farlo però non mettendolo a spunto in automatico ma mostrandoti 20 persone di destra di sinistra di centro indipendentiste rivoluzionari anarchiche mettendoci veramente tutti quanti i vari check che servono alla piattaforma per dare il lock come direbbero in Boris 4 ma mostrandoti anche le anteprime degli ultimi due tweet popolari che hanno fatto e poi tu decidi chi seguire e chi no all'interno di quel feed e poi ci potrebbe essere il feed cucina ci potrebbe essere il feed sui videogiochi insomma veramente le possibilità sono tantissime per i creator l'abbiamo detto prima magari si possono dare funzionalità di analytics più avanzate si possono dare più funzionalità nel modo in cui utilizzare twitter spaces per le aziende ci potrebbero essere altri tipi di funzioni su chi ti sta seguendo veramente tra tutte le soluzioni che c'erano twitter blue mi sembra la soluzione più raffazzonata in ogni caso io spero che questo video vi sia piaciuto vi sia interessato scrivetemi qui sotto secondo voi cosa può fare zio Elon per risolvere twitter io ammetto che non sono un avido utilizzatore di questo social media quindi sono curioso di saperlo specialmente magari da chi di voi invece ne fa un utilizzo quotidiano e come al solito noi ci vediamo alla prossima grazie mille per avermi seguito vi chiedo di fare le solite cose da youtube per iscrivervi mettere un piaccio le campanelline insomma sta roba qua e se volete c'è anche i miei contatti instagram tommaso diste il mio linkedin e il mio sito diste.io alla prossima ciao 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 ciao